Ciao creatura, io sono ecco di splendente e abbagliante, Sam ferma, io sono ecco di splendente e benvenuta o bentornata nel regno di... Cosai ASMR, censuriamo il popò, il poppy Sam, questa sera Sam farà, ci delizzerà con un fantastico video assaggio barra mukbang, ho cercato di fare una inquadratura però poi non stava fermo e quindi non capivo Come metterla, quindi non si vede nemmeno, è ottimo, però l'importante è che si veda poi il suo piattino bianco, florescente, madonna che esposizione c'è, Sam, aiuto Non è rilassante per niente questa, a parte whispering, con sta coda, aspetta, facciamo così Continua a dare codate al treppiede, adesso non lo trova più Che caos, provo a settare un attimo... no aspetta forse Aspetta un attimo Ecco Credo sia un pochino meglio Ok, allora Allora, il primo mukbang di Sam, allora, il primo mukbang di Sam è già stato fatto per gli abbonati E quindi è un video mukbang dove Sam mangia e racconta cose efficienti della sua abilità pasta, no scherzo, mangia e basta Però, voglio portare anche un video assaggio barra mukbang di Sam Dovrò fare 15.000 tagli Dai, con sta coda È impaziente di assaggiare questa coda Adesso dovrò sollevarla, vediamo se... Assaggerà questa, che non si vede Aspettate Allora, è... non so la pronuncia, credo... Monge, monge grill Monge, monge... Al gusto sgombro Sembra che non le diamo a mangiare da mille anni, invece non è vero Al... bucconcini al forno, sgombro, ricco in sgombro Allora Non so, credo che venga un video di un secondo con tutta Italia Vado ad aprire... ci saranno dei tagli perché adesso arriverà e sbatterà sul microfono sicuramente Tutto a gelatine Tutto a gelatine Lo tengo io Non so io tanto che ce ne do ancora, stai buona piano Sam sembra che lo mangi da 80 anni sono proprio dei bocconcini, mi sembra proprio carne vera, cioè nel senso sembra carne tipo bollita, c'è scritto al forno, vabbè però sembra proprio carne vera, quella che mangiavano noi, non i bocconcini di cose strane però è sgombro, quindi in realtà, sì, sembrano peste di sgombro o quello di pol naturale non lo mangerei mai perché a quella gelatina che ho metto a fastidio tipo della simetta sembra una simetta di pol, sembra una simetta di sgombro secondo me non sta neanche masticando no, io glielo do tu, glielo do tutto non mi lascia neanche mettere lì, giù aspetta, è talmente buono che guardate non mi lascia neanche parte che sembrava super affamata in realtà mangia questo gatto perché si vede che non è proprio malissimo però le piace tanto, lo mangia proprio con avidità faccio il commento il commento esterno non so perché lo legga prima gli piace leccarlo, perché tutto quello che dico suona male si mangia prima la gelatina dopo si lascia i pezzettoni finali vediamo ah si adesso sto mortendo però ho trovato dell'altra gelatina si lascia i pezzettoni finali è la parte migliore per dopo come slurpa come sta slurpando mastica anche bene almeno non cattisce finalmente sta masticando pensavo di mandarsi giù questo interno perché a volte è talmente vorace che manda giù tutto interno vediamo se non so non so stonca, è oggi apprende si è sposto sarei siam 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 siam?? oh è picato con le orecchie sono i vicini che usano hai lasciato due pezzettini buono hai finito tutto brava bravissimo io direi approvato non sto facendo pubblicità ho preso questo su amazon perché ho visto che poi era il più venduto proveremo altri se vi piacciono questi video Sam proverà altre bustine o calcantini che troveremo vero Sam ok i vicini sono attivati a urlare quindi mi so che il video terminerà qui seduta brava non ci si vede più però così vabbè spero che questo video ti sia piaciuto creatura Sam è piaciuto molto farlo vero Sam? vuoi darmi la zampa? niente è sparito la creatura forse vedi la sua coda qui la sua coda ecco e volevo fare un video portare un video diverso dal solito visto che avevo comprato questa questa marca nuova che non avevo mai provato ho detto ma si facciamolo provare a Sam è sempre una cosa simpatica ha fatto un sacco di suoni non so se si sono sentiti poi dopo in editing mi proverò a sentire e io ho sentito con le cuffie il suo respiro questi suoni strani che fa quando mangia spero che sia stato rilassante se non è rilassante magari divertente ma soprattutto lascia un like per Sam ovviamente avreste dovuto farlo subito creatura no? io direi di lasciare subito un bel pollicione in su per Sam e se non l'hai fatto iscriviti al canale attiva la campanellina per restare sempre aggiornata mi raccomando creatura arriveranno presto delle collaborazioni io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao a tutti ciao a tutti